Sì, penso che oggi siamo contentissime perché il Prato è una squadra molto brava e ci hanno fatto lottare tanto e non hanno mollato fino alla fine e per questo per noi era una partita dura e siamo veramente contentissimi che abbiamo vinto abbiamo giocato come gruppo e quello mi è piaciuto tantissimo ma dobbiamo essere anche concentrati perché domani giochiamo contro il Doso Buono anche una squadra forte e spero che andrà bene e sì, grazie Per noi già essere qua è un grande braguardo è la prima volta per la 2 del Prato essere venute qua alle finali quindi è una grande emozione, tante cose oggi abbiamo peccato nelle cose che ci riescono meglio tra cui la difesa aggressiva, la seconda fase comunque guarderemo a domani c'è Teramo, ci sarà Doso Buono sicuramente punteremo a vincere tutte e due le partite per andare a fare le semifinali